Oh, devo dire, non semplice da capire, eh, non semplice, eh, da YouTube è diverso, eh, ragazzi, eh, io sono bravo lì. Chi è? Anna? Madonna, che paura, no, sta botta mi hai fatto veramente paura, perché sta a fare un conto. Un conto, sai? Non è che sono, sì, non sono nove mesi che facciamo nell'anima. Come no, non sono nove mesi? Eh, no, sono almeno, sono quasi undici. Davvero? Non è possibile, Anna? Cosa, abbiamo iniziato a gennaio? Ah, non lo so, no, però, Anna, chi ha l'abbonamento ce l'ha da nove mesi, eh, Ilma. No, dieci mesi, sono già rientrati dieci mesi. Sono dieci mesi.